dall'Avicor Stadium di Selvapiana, 26esima giornata di campionato, sfida ad alta quota per i lupi che vanno ad incontrare Lavezzano, squadra assolutamente da non sottovalutare con questa giornata oltre 3.400 gli spettatori giunti quest'oggi all'Avicor per questo match di cartello, presente anche la proprietà può andare al traversone, 1 contro 1 con Bonacchi, il doppio passo ancora di De Silvestro, gol a Mancino sul primo pallone da solo Esposito, Esposito sicuro Poco morbido, si alza il pallone e se lo porta via, Grandis è largo, Lombari sulla sinistra, attenzione il pallone è proprio per lui Lombari, la mette dentro Lombari, Grandis non ci arriva, viene anticipato, calcio d'angolo Può arrivare forse il fischio del direttore di gara che arriva adesso, Maldonado Pallone sulla primo, palo stacca, Di Nardo di testa, pallone fuori Fuori di pochissimo Serra Lombari Alza la testa Lombari, il pallone arriva a Di Nardo, prova la conclusione Sì! 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 Antonio Di Nardo 1-0 E tutto regolare, non c'è fallo, pallone per Tunkara Tunkara, Tunkara, attenzione in area di rigore, bella, la pala perde Silvestro, il palo E il palo dell'Avezzano era tutto regolare, non si è alzata la bandierina, che occasione per l'Avezzano Con il mancino, sul primo palo, allontano, occhio, occhio! Roberti Maldonado Prova ad andare direttamente in porta Luis Adesso ci crede l'Avezzano che da un po' di minuti ha alzato il ritmo Del gioco, Bonacchi Uh, Tunkara col piattone! Ah! Via, 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 via! Via! Ancora lui, riesce ad arrivarci Grandis con l'esterno verso Koken Bello il pallone di Grandis Koken si gira, prova a fare tutto da solo Trova Di Nardo all'interno dell'area La conclusione di Di Nardo! Di Nardo! Pallone fuori Buono, è buono Palla che resta lì Koken si fa vedere Sulla mezzaluna Ancora Koken, il pallone per lui Prova a fare tutto da solo È di spalle però ha bisogno di un sostegno E lo trova in Parisi Ancora Parisi Prova il mancino Parisi Brusca ci mette i guantoni Primo palo Stacca, non c'è nessuno Maldonado Uh! La botta di Maldonado di prima Adesso è l'Avezzano A ripartire Pallone in aria per Tunkara Occhio Tunkara! Esposito Centrale Sicuro Può provare Ah! Può provare la conclusione Fermato Riparte, attenzione al contropiede Dell'Avezzano Tunkara E Roberti da solo Tra le linee Attenzione Tunkara e la pallone Per lui Sei! Sei! Bonacchi Ancora in avanti L'Avezzano Buona la partita Dei Marsicani Pallone in aria Gonzale Socchio Non lo fate tirare Non lo fate tirare Pallone fuori Occhio la conclusione Ragazzi l'ho vista dentro Brivido Stando così le cose Si porterebbero a meno due Di Nardo Per Abonchile Lungo è dal pallone La tiene comunque Ma di Pacillo Pacillo Vai Danny Vai Danny La palle per Di Nardo Di Nardo Si! 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 Di Nardo La doppietta di Di Nardo Occhio Persichini Ancora Persichini Prova la conclusione Persichini La conclusione Il tocco Oh Tuncara Via Calcio d'angolo Si! Non c'è più tempo Non c'è più tempo Finisce qui Il campo basso Vince 2 a 1 E conquista Altri tre punti Fondamentali Oh 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 Oh